Il mio cliente non era in arresto, eppure gli è stato rifiutato l'uso del bagno. È una violazione dei diritti civili. Può affrontare la questione in tribunale. Beh, io vorrei affrontarla ora. Dico solo che... Signor Israel, se insiste la condannerò per oltraggio alla corte. Mi sta chiedendo di obbedire a una decisione della corte errata e mi sta dicendo di aggettare, ma... Ok, la condanno per oltraggio. Questo studio legale è in deficit da anni. Mi licenzi? Tu sei una pietra miliare dell'attivismo. Sei fonte di ispirazione. Sono stanco di fare l'impossibile per degli ingrazi. Devi guadagnarti da vivere. Prenditi cura di te. Lo farò. Se sapessi dove si nasconde CJ, quanto verrebbe? Molto. Quello di cui parleremo resterà riservato. So dove è l'uomo che l'ha fatto. Voglio la ricompensa in contanti. Il mondo è pieno di cose meravigliose. Allora, che ne pensa? Quando mi trasferisco? Ho avuto informazioni su di lei da una fonte sicura. Sapevi dov'ero? Guardia! Posso trovarti quando voglio. Guardia! Roman, hai infranto la legge. Questa è gente pericolosa. Non puoi andartene così. Io non me ne vado. Prima devo finire. Siamo migliori della cosa peggiore che abbiamo fatto.